Buonasera. Buonasera. Senta, dovrei fare una fotocopia. Sì, e di che cosa? Eh, se mi può dare un consiglio lei... Eh, dipende, è per lei? No, 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 una ragazza, un compleanno, sì, un regalo. E una ragazza, 18 anni, questo è importante. Allora, dunque... Ecco, questo qua, per esempio, un volantino, due colori, davanti e dietro, con i prezzi. Oppure, questo qui, e poi è un Deplian, resistente, perché i ragazzi sono giovani, non è, ci rovinano un po' le cose, non sappiamo. No, però pensavo un articolo un po' diverso, c'avevo in mente un'altra idea, una cosa... Una tesi? Adesso vanno molto le tesi, eh. Un po' impegnativo, però. Ma, comunque, è sempre un articolo, un articolo giovane, insomma, va abbastanza bene, poi non devi necessariamente fotocopiarlo tutto. Può vedere, sicuramente, delle pagine... Sembra, dicendo, l'hai fatto tutto, sembra quei regali un po' in mezzo, in mezzo, ma... Senta, quella scritta là? Questa? Sì. No, questa qui è nostra, l'abbiamo attaccata noi. Si può staccare un attimo e me la fotocopia e... Cioè, è proprio nostra, la usiamo per dipendenti? No, non è, secondo me... Allora, non so, mi dica lei, perché non so proprio che cosa... Questo che ne dice? Che carino, bello. Questo ha colori un po' vivari, una delle colori poi un po'... Molto, molto, sì. Giovane, va bene, molto giovane come... Sì, 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 è vero, è vero. Come linea. Questo ha... Questo ne stiamo fotocopiando molto. Ah, sì, davvero? Sì. Mi convince. Senta, questa quanto viene bianco e nero? Bianco e nero viene 100 lire. Colore invece... Colore di 300. Guardi, glielo dico contro i miei interessi. Il bianco e nero rimane più fine. Non c'è un po' il rischio di dire... Poi magari la vede da altri a colori, dice... Gli altri hanno un altro... No, dipende da che tipo di ragazza, perché il bianco e nero lo mette su tutto. Perché non so se lo mette su una schivania, su un tavolo, così, va bene, il bianco e nero. Però lei è molto vivace. Allora, allora a colori. A colori perché ha un'opportunità... I colori poi possono venire, appunto, così un po'... 300, eh? 300. Mi perdono un attimo soltanto, ti faccio una telefonata. Io intanto continuo. Sì, sì, prego, ci mancherebbe. Pino. Ehi, ciao. Sì, sto qui e... Senti, avrei trovato, insomma, una cosa che mi sembra carina. Eh, sì, è un... Una copertina di... Eh, guarda, sì, infatti io ho chiesto, in bianco e nero 100 lire. Però il colore, secondo me, viene molto meglio, insomma, è... 300. Eh, lo so, lo so che è un po' oltre quello che avevamo pensato. Però, eventualmente, allora, se te proprio non vuoi... Facciamo, metto 180 io e 120 tu. Dai, però, 18 anni, cioè, ci presentiamo una cosa in bianco e nero, se mi figura un po' da perragottare, eh? Dai. Eh? Va bene? Ok. Perfetto. Allora vada... Vada per questo. Ok. Ciao, Pino. Ciao. Senta. Allora, va bene. Eh, facciamo colore. Sì. Ma eventualmente un'alternet... Aspetta un po'. Questa carta in testala? Non me l'aveva fatta vedere prima. Questa in realtà sarebbe un'esclusiva per un cliente, veramente. Senta, no, questa, questa è molto bella, la voglio così. Però eventualmente si può togliere questa parte? Sì, basta metterci una pecetta, così. Eh, allora va bene così. Calcoli comunque che in fotocopia tende sempre un po' a restringere. No, vabbè, ma non è importanza, è importante. No, così, viene così. Ok. Perfetto. Sempre a colori? Colori. Sì. A colori. Eh sì. Eccola qui. Ecco, bello, bello, bello. Molto bello. È bello. È elegante. Perfetto, molto, molto, molto. Non impegna a questo. Vabbè, allora 250... 300. 300, scusate. Senta, eventualmente se poi lo volesse cambiare, si può cambiare? Sì, se non lo deve usare. Se ce l'avessi, sì, 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 se già ce l'avessi. Sì, non credo perché appunto, come dicevo, è l'escosia, però non deve usarlo. Mi dà una busta? Eh, diventato. Da 50 o da 100? Ah, no, vabbè, va bene anche così. Ok, grazie, è stato molto d'aiuto. Buona giornata. Grazie. Buon compleanno, faccia gli auguri a questa sua amica. A presto, buona giornata. Anche a lei, arrivederci. Buona giornata.